Vi ricordate quanto ci prendevano in giro per gli scontrini? Tutti i soldi che mettevamo da parte? Ve l'ha spiegato Giorgio a che cosa sono serviti quegli scontrini, con quanta cura abbiamo amministrato i soldi che voi ci avete dato per compiere il nostro lavoro. Tutto quello che non è servito, tutto quello che non è stato rendicontato è andato nel fondo che ha descritto Giorgio e che adesso sta aiutando le imprese italiane a creare nuova occupazione. Questo è il rivoluzionario metodo del Movimento 5 Stelle all'interno delle istituzioni, rivoluzionario perché introduci due qualità rivoluzionari, l'onestà, come dice Beppo un onesto in Parlamento non si vedeva dai tempi dei padri costituenti e la seconda cosa, la coerenza, la coerenza, tutto quello che abbiamo detto, tutto, tutto è stato realizzato e mantenuto. Noi in questi giorni veniamo da questa settimana di Genovese, vi ha spiegato già Alessandro che cosa è successo, e veniamo dalla giornata di ieri che è stata per noi che viviamo di piccole soddisfazioni, assolutamente esilarante nella sua disperazione. La disperazione è che c'era l'ennesimo decreto legge, che parla di emergenza abitativa, trattino Expo, vedi che ti perseguita Giorgio Expo, ed era come Banca d'Italia, IMU Banca d'Italia, IMU la foglia di Fico, Banca d'Italia il cetriolo. La stessa cosa in questo caso, avevamo emergenza abitativa creata da loro in vent'anni, non c'era bisogno di un decreto legge, c'era bisogno di una pianificazione, di interventi per i prossimi anni, invece hanno fatto un decreto legge che regala la possibilità di costruire di nuovo agli imprenditori palazzinari amici loro, con i nostri soldi dell'edilizia agevolata e dell'edilizia convenzionata, e poi c'è un trattino piccino l'ultimo articolo che prevede un ulteriore finanziamento di 25 milioni di euro all'Expo. E dove li prendono questi 25 milioni di euro per l'Expo? Quando hai finito di fare tipo pallina da flipper tra un articolo, un emendamento, un comma, una legge che rimanda a una stabilità che rimanda a un decreto legge che rimanda a, finalmente arrivi alla ciccia, scopri che 13 più 2 milioni di euro vengono da due fondi di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione e 10 milioni di euro vengono da un fondo per le emergenze a cui possono attingere i vigili del fuoco e polizia di Stato. Quindi stanno togliendo 25 milioni di euro ai precari e alle emergenze, quelle sì, sul territorio per darle ai loro amichetti tangentari e corruttori. Questo è quello che è successo in questi giorni, neanche noi davanti a questa ennesima schifezza abbiamo detto eh no, non ci fate intervenire nel merito perché l'altra ieri in commissione ambiente alle 8 di sera tra l'altro decreto legge arrivato in commissione alle 13.30, termine consegna emendamenti alle 17.30, quindi tu avresti quattro ore secondo loro per studiarti il decreto, fare gli emendamenti e tutto, inizio discussione alle 20, cioè anzi alle 19, ma dalle 19 alle 20 stanno ancora a fare i plichi con le fotocopie degli emendamenti depositati. Arriviamo, ci sediamo, la relatrice del PD alza la mano, dice chiedo di intervenire, allora gli emendamenti sono tanti, questo è il blocco, non ho tempo di leggerli perché domani dobbiamo essere in aula, quindi do voto negativo su tutto, tanto questo decreto non deve cambiare di una virgola. Tra la schifezza del decreto come contenuti e le modalità continuamente incostituzionali con cui stanno operando queste persone noi abbiamo detto e vabbè allora tu volevi la settimana prossima chiudere una settimana perché vi dovevate andare a fare le vostre campagnucce elettorali perché funziona così in Parlamento, tu hai un'elezione per il Parlamento europeo, parlamentari italiani con un mandato regolarmente in corso, si candidano al Parlamento europeo perché si devono pesare, devono prendere le preferenze e poi andare dal loro segretario e dire io valgo 20.000 preferenze, che fai mi cacci dal Parlamento pure con 53 capi di imputazione? Io ne valgo 10.000, che fai mi dai un posto d'assessore alla prossima giunta? E così fanno e così interrompono le attività di un organo istituzionale perché devono andare a fare questa pesatura al mercato delle vacche e noi gli abbiamo detto scusa, nella vita reale è come se tu lavorassi per un'azienda, vai dal tuo datore di lavoro e gli dici senti settimana prossima chiudi la tua azienda, la tua attività, me paghi e io vado a fare colloqui di lavoro per altri posti di lavoro perché la filosofia è quella, un datore di lavoro, voi che siete persone normali che vivete calati nel mondo reale, che gli avrebbe detto a uno che gli faceva un discorso del genere? Ecco, questo nel mondo reale, nel palazzo invece loro vogliono andarsi a fare la loro campioniccia elettorale, quindi metti lo schifo del decreto, metti lo schifo di questi soldi presi da questi fondi, metti il fatto che non ti avevano fatto discutere in commissione, le siti preposte, come direbbe Speranza, gli spazi della democrazia, vero? Metti che la settimana dopo si dovevano andare a fare la vacanzetta elettorale, e lì non ci abbiamo visto più, ci siamo iscritti tutti e 84, 84 perché 20 erano sospesi ancora di vecchie pendenze, quando hanno visto 84, mezz'ora ciascuno gli è preso un colpo, è arrivato il delegato d'aula, rosato, e fa, vabbè, tanto sapete che chiediamo la fiducia? Ah, chiedila, e sapete anche che tagliamo la discussione generale, tagliala, allora ci fa iniziare a parlare, dopo un po' arriva e fa, signor Presidente, signor Presidente, chiediamo l'interruzione della discussione generale, la capigruppo perché questo decreto vogliamo mettere la fiducia, settimana prossima non si lavora, se no poi scade, allora in aula la devi votare l'interruzione della discussione generale, questi del PD sono talmente tanto pippe, pensate ai vent'anni chi ci ha governato, che manco si erano contati, per tre volte non hanno avuto il numero legale perché non si sono contati e alla fine dovranno, la capogruppo si è fatta, dovranno venire a lavorare la settimana prossima e noi siamo enormemente felici di questa cosa. Poi dici tu ce l'hai con quelli del PD, l'altro giorno stavo a un incontro con un sindacato di base, tanto per rispondere anche a quel ragazzo che parlava del rapporto che abbiamo con i sindacati, perché se i sindacati aiutano effettivamente i lavoratori e non sono un grumo di potere che si oppone tra loro e i loro diritti, noi parliamo e collaboriamo con i sindacati. Ero lì e c'era una signora molto carina, molto carbata, che si avvicina e mi fa, guarda, mi è piaciuto molto il tuo intervento, io vi seguo, condivido tante delle vostre cose, però io voto PD. E tu la guardi e fai, ma come mai? Dice no, perché guarda, dice non mi piace, non condivido niente di quello che fa il PD, ma il vostro capo urla. Il vostro capo urla e dice delle parole forti, quasi eversive. Ora noi che è un anno che stiamo là dentro, che abbiamo preso le botte, che abbiamo preso le sospensioni, io ancora no, ma voglio essere la prossima, lo dico subito. Abbiamo preso le botte, le sospensioni, i dileggi, l'oscuramento dei media, le menzogne sistematiche dove non c'è un giornalista che dica ma che cazzo stai a dire quando una di queste dice quelle raffiche di menzogne, una dietro l'altra. Noi che ci siamo presi tutte queste, io l'ho guardata e gli ho fatto, senti bella, ho detto te lo dico io, cosa eversivo dopo un anno di Parlamento. Eversivo è un Presidente della Repubblica che si fa eleggere dai partiti nel segreto delle stanze per farsi garante della casta, questo è eversivo. Eversivo è un Presidente della Camera che va in televisione con i nostri soldi a dire che noi siamo potenziali stupratori ed eversori, usando e abusando del suo ruolo. Questa è eversione. Eversione sono tre Presidenti del Consiglio che non sono stati scelti dai cittadini. Eversione è questa dittatura della maggioranza, questa dittatura che ha trasformato il Parlamento in un convertificio e questo stravolgimento della Costituzione, questa è l'eversione che noi vediamo tutti i giorni. non gliel'ho detto urlando così, quindi non mi poteva dire che gliel'avevo detto urlando, però è rimasta così e ha detto ci penserò. Ci penserò. Vabbè, meglio di niente. Quindi, signori, 25 maggio. Noi abbiamo questa data epocale, questa data storica, questa data che deve rimanere segnata nei libri di storia di questo paese. Questa settimana ne vedremo ancora delle belle, abbiamo avuto dei piccoli problemini, delle autorizzazioni che ci erano tolte, dei boicottaggi sui manifesti, sulle bandiere, una fontana a Frosinone, eravamo l'altro giorno, abbiamo fatto il mirare, ci hanno staccato la luce, ci hanno staccato l'amplificazione, ci hanno detto qualunque cosa. Però sapete come diceva Gandhi? Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinciamo noi!